Un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto. Volevo iniziare questo incontro di oggi con una puntualizzazione molto importante. Io sono stato cattolico, ho servito messa a Paolo VI, sono stato insegnante di catechismo, oltre che chierichetto, e avevo la mia Madonna di riferimento. Quindi per dirvi che non sono un, diciamo, assatarato protestante che ce l'ha col cattolicesimo, assolutamente no, ho fatto una mia ricerca, ho preso delle posizioni e oggi posso dialogare sinceramente con persone di una fede diversa dalla mia che non è più quella cattolica. E volevo iniziare appunto puntualizzando con una frase molto bella scritta da Ellen White sul suo libro Il Gran Conflitto, pagina 565, dove dice Nella confessione cattolica romana vi sono dei sinceri cristiani, Migliaia di membri di quella chiesa servono Dio secondo la luce che posseggono. Dio osserva con tenerezza quelle anime e provvederà perché dei raggi di luce rivelino esse la verità che si trova in Gesù. Ecco qual è stata la mia scelta, scegliere Gesù, non Maria, pur rispettando la Maria del Vangelo. E ricordo quando negli anni Ottanta nel boom delle apparizioni mariane venne intervistato in televisione Monsignore Ersiglio Tonini, un principe della chiesa, io vidi la trasmissione e l'intervistatore fece una domanda al Monsignore che cosa ne pensa di tutte queste apparizioni mariane? Risposta all'apidaria, tutte sciocchezze, la fede è un'altra cosa. Ecco perché contrapporre Maria alla fede o le apparizioni mariane alla fede? Forse le apparizioni mariane non portano alla genuina fede nella Bibbia, nel Vangelo. Tornando al messaggio del Papa in occasione della consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria, la teologa Cettina Militello il giorno dopo lascia questa dichiarazione a Vatican News, il sito Vaticano, in riferimento proprio al passaggio in cui il Papa cita le nozze di Cana che sul Vangelo è riportato come il primo miracolo di Gesù quando Gesù trasforma l'acqua in vino, la teologa dice trovo molto bello il ruolo di Maria a Cana dove interviene perché Gesù compie il primo dei segni. Ora la Bibbia dice che è esattamente il contrario. Infatti se leggiamo quel passo in Giovanni capitolo 2 noi scopriamo che Gesù, sollecitato dalla madre a fare il miracolo perché è esaurito il vino a una festa di nozze, Gesù dice cosa c'è fra me e te o donna. Gesù è il Salvatore, non Maria. Gesù prende le distanze. Cosa c'è fra me e te o donna? Io sono divino, tu sei umana. Anche in un'altra occasione quando Maria con i fratelli di Gesù vanno a interrompere una sua evangelizzazione in una casa e gli astanti dicono guarda che fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano, no? E lui risponde chiunque fa la volontà del padre mio è mia madre e mio fratello. Poi Gesù alla croce affida sua madre a Giovanni. Quindi Gesù non è sconstante o scontroso con la madre come aveva pensato una mia cara amica cattolica rimasta turbata da quel passaggio evangelico. Come mai Gesù tratta così male la madre? No, Gesù non tratta assolutamente male la madre. Mette soltanto, ripeto, dei paletti perché sapeva da profeta cosa della madre avrebbero fatto nei secoli i suoi sostenitori. Quindi sostenere Maria al posto di Gesù e allora aveva ragione Ersiglio Tonini. Queste sono sciocchezze. La fede è un'altra cosa. La fede si ha in Gesù. E i padri della Chiesa sono sulla stessa linea, no? Per esempio Nestorio e Cirillo dicono non si deve fare della Vergine una dea perché è una creatura come noi. E Epifanio nel suo Panarion dice non dovete adorare i Santi e Maria, no? Si onori Mania ma non si adori. E poi fa un riferimento molto importante stigmatizzando delle donne che erano presenti nella sua comunità o nella comunità della prima Chiesa cristiana. Insomma, ricordiamo che il Panarion di Epifanio è stato scritto nel IV secolo, no? e dice praticamente Epifanio che non si devono venerare i Santi né la Regina del Cielo come fanno le colleridiane, cioè le chiama donnette, donne che offrivano una focaccia di colleridia, un cereale, alla Regina del Cielo, la Madonna. e lui dice questo errore lo ha commesso già il popolo antico e cita Geremia, dove il profeta Geremia rimproverava donne che facevano analoghe cose offrendo focacce alla Regina del Cielo che a quel tempo, al tempo di Geremia, era Astarte, Ishtar, Inanna, come volete, insomma. Quindi Epifanio paragona il culto a Maria del suo tempo a quello che ha stigmatizzato Geremia e lo chiama, Epifanio chiama questo culto alla Madonna, dottrine di demoni, dottrine di demoni. E poi aggiunge un angelo in Apocalisse e viene detto che rimase scandalizzato quando Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, si inginocchia per adorarlo e l'angelo dice non lo fare, io sono un servo come te, adora Dio. Ecco perché Silio Tonini diceva sono sciocchezze le cose che pretendono queste madonne in queste apparizioni. La fede è un'altra cosa, la fede è indirizzata verso Gesù e non verso Maria. E ho letto delle cose molto interessanti a riguardo di questo passaggio di Epifanio che parla di dottrine dei demoni in relazione al culto a Maria in un bellissimo libro, Nostra Signora delle Apparizioni, scritto da Cannizzaro Gregorio Davide. e dice così, altro aspetto che ci suggerisce quel dare retto a spiriti sedutori a dottrine dei demoni è la parte fondamentale che ha avuto nell'apostasia della Chiesa l'azione dei demoni in tutte le dottrine antiscritturali penetrate nella cristianità e tra queste si può scorgere l'azione tenace e strategicamente programmata condotta dal mondo delle tenebre. Quindi ciò che non è in armonia con la Bibbia in materia di dottrina è dottrina di demoni. È dottrina di demoni. E quindi, dice Cannizzaro, più di tutte le dottrine è quella che viene fuori dal culto delle apparizioni mariane. E qui Cannizzaro viene accomunato, secondo me, a Pinotti, un altro ricercatore, il quale dice che questa strana smania diciamo di apparizioni è tutta riferita a un regista occulto, a qualcuno che agisce nell'ombra. Vedremo per quale motivo. Giovanni Miege nel libro La Vergine Maria, edizione claudiana, fa riferimento ad alcuni dei dogmi mariani e li critica rifacendosi ai padri della Chiesa. E io mi chiedo, come mai i padri della Chiesa, coloro che erano molto vicini a Maria, non ne parlano o non la considerano così come la considerano i padri della Chiesa moderna? Come mai? Dovremmo trovare molte più informazioni su Maria nelle fonti antiche, anziché in quelle moderne, che sono molto lontane dalla figura e dalla vita di Maria. E a un certo punto, alla pagina 119 di questo suo libro, Giovanni Miege dice Giovanni Crisostomo, commentando l'episodio dei parenti che cercavano Gesù, considera come indiscreto il desiderio della madre di Gesù e dei suoi fratelli che gli interrompesse il suo discorso per venire con loro. E pensa che, sempre Giovanni Crisostomo, alle nozze di Cana Maria non fu forse immune, attenzione a questo passaggio, Maria non fu forse immune da qualche sentimento di vanità umana, desiderando attrarsi la riconoscenza degli invitati, col miracolo chiesto a Gesù e dimostrare la sua influenza su di Lui. Quindi Maria dice io sono la mamma di questo supereroe, di questo essere divino, quindi dovete fare questo, questo e questo. Invece Gesù le dice stai al tuo posto. E Maria tace. E lì dove la teologa che ho citata all'inizio vede l'umiltà di Maria, i padri della Chiesa vedono lo smacco. Maria diventa rossa dalla vergogna perché Gesù la mette al suo posto. che cosa c'è fra me e te o donna? Io sono l'unico a cui ci si riferisce per la salvezza, non tu. Ecco, quindi vedete come si ribaltano le cose nella teologia cattolica moderna. Gregorio Carnizzaro, ancora nel suo libro Nostra Signora dell'Apparizione, fa un'analisi importante sul perché la figura di Maria abbia assunto un ruolo così grande, anche tra gli intellettuali. lui non cita mai Messori invece io sì perché è venuto a un nostro convegno molto tempo fa quando scrisse ipotesi su Gesù lo invitammo, lo vidi di persona poi tornato a casa sul suo taccuino mariano sulla rivista Jesus e praticamente o su uno dei suoi interventi giornalistici sbeffeggiò gli avventisti del settimo giorno che lo avevano invitato in quel di Capodanno a tocco di Casauria per festeggiare diciamo il Capodanno e fare un congresso sulla figura di Gesù tornando a casa e scrivendo, ripeto, sul suo giornale disse sono stato con coloro che brindano con i calici di legno come per dire questa gente eppure dopo qualche decennio lo stesso Messori dal bellissimo libro ipotesi su Gesù ne scrisse un altro ipotesi su Maria pieno, pieno di tradizioni quasi infantili se vogliamo quindi ripeto Cannizzaro non lo cita mai nel suo libro però nel suo libro egli si chiede come mai certi intellettuali siano diciamo caduti in una specie di devozione così infantile puerile che spesso si riselva solo alle classi sociali meno ambienti più basse le ragioni psicologiche dice Cannizzaro per cui persone colte dall'intelligenza brillante straordinariamente acute nel criticare le ideologie altrui danno prova di un'ingenua soggezione e di un atteggiamento accritico quando invece devono porre in discussione le dottrine del proprio gruppo di appartenenza ecco a maggior ragione se tale organizzazione a cui aderiscono è strutturata gerarchicamente e non consente di mettere in discussione i suoi dogmi Maria in cielo è un dogma tu lo devi osservare e basta e qui viene fuori veramente l'ingenuità anche dei più grandi ed eccellsi pensatori i quali seguono probabilmente la scia del cardinale Bellarmino il quale disse una bestemmia sonora ma che purtroppo in molti nella chiesa cattolica anche intellettuali seguono pedissequamente disse Bellarmino se anche il papa sbagliasse comandando dei vizi e proibendo delle virtù la chiesa è tenuta a credere che i vizi siano buoni e che le virtù cattive cioè una bestemmia più grande sostenuta da un principe della chiesa e oggi da intellettuali di provata diciamo effine intelligenza beh veramente è uno smacco contro l'intelligenza vera e propria quindi se le apparizioni mariane fossero dei vizi che sono fatte credere dalla chiesa cattolica come delle virtù allora noi dovremmo lasciare da parte ogni elucubrazione e tornare alla fonte che è la Bibbia quindi se la Bibbia smontasse le apparizioni mariane e le considerasse delle bestemmie cosa faremo? crederemo alle apparizioni mariane o alla Bibbia? ecco secondo Bellarmino dovremmo bestemmiare contro la Bibbia perché ce lo chiede il papa? eh no eh no mi dispiace ed è stato questo il mio salto dal cattolicesimo alla chiesa cristiana avventista ma potevo essere qualunque altra cosa ma non quella di diciamo aderire a una chiesa che mi chiede di credere alle bugie e purtroppo come ho citato all'inizio Ellen White dice che in quella chiesa e io ne sono la testimonianza vivente ci sono molti sinceri credenti che amano Dio con tutto il cuore ebbene Dio rivelerà a loro la verità come l'ha rivelata a me insomma anzi io direi se le apparizioni mariane oltre che una bestemmia fossero invece un abile trucco del demonio delle forze del male quelle dottrini di demoni di cui parla il padre della chiesa Epifanio e anche San Paolo nella sua Bibbia quando dice entreranno nella chiesa persone che sosteranno dottrine di demoni e questo successe qualche anno dopo e in questo senso vanno lette ancora le parole di Gregorio Cannizzaro quando scrive avendo preso atto che chi ha lavorato durante tutti questi secoli al progetto Madonna lo chiama il progetto Madonna l'iter delle apparizioni mariane nel corso dei secoli ecco chi ha fatto questo lo ha fatto non solo per burlarsi di noi e di Dio ma soprattutto per distogliere la nostra devozione allora esprimiamo un'altra nostra convinzione quella che nell'ambito di tale progetto esista un piano escatologico che mira a porre in forte conflitto i fedeli divenuti compiutamente mariani quindi che amano le apparizioni mariane e maria supportati da falsi cristi e falsi profeti contro i fedeli di Cristo quello vero in una terribile guerra di religione che precederà il ritorno in gloria di Gesù ecco praticamente Maria potrebbe essere all'origine del nuovo ordine mondiale quindi un piano studiato nei minimi dettagli dalle forze del male per distogliere il mondo dal vedere che ormai Cristo sta per tornare quindi siamo alla fine dei tempi quindi niente Cristo niente Bibbia condotti soltanto dalle apparizioni dove ci vogliono portare queste apparizioni ma verso la pace perché quale trucco migliore per poter accreditarsi diciamo applausi no la pace oggi il mondo ha bisogno di pace è una figura così bella come quella di Maria che evoca di per sé oltre alla serenità proprio la pace dove la possiamo trovare bene la svolta si verifica all'inizio degli anni 50 abbiamo in Italia la prima delle lacrimazioni della Madonna Siragusa ma il 13 maggio 1954 appare la Madonna Aida Perdam ad Amsterdam e si fa chiamare la signora di tutti i popoli ecco qui inizia il nuovo ordine mondiale della Madonna che sconvolge anche gli stessi cattolici anche le stesse gerarchie cattoliche quindi queste apparizioni incominciano l'era della fine dei tempi e questo ricorda la profezia di Paolo l'apostolo nella Bibbia in prima Tessalonicesi versetto 5 capitolo 5 versetto 3 dove l'apostolo dice come profeta quando diranno pace e sicurezza allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto ebbene questo ecco richiama dichiarazioni di Gesù fatte in Matteo 24 8 dove parlando anch'esso della fine dei tempi denunciando segni quali terremoti carestie guerre eccetera eccetera dice questo è solo il principio di dolori cito testualmente dalla Bibbia versione di Odati ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie del parto quindi vedete come si rimbalzano le visioni tra Paolo e Gesù o viceversa insomma siamo praticamente alle doglie del parto tutti questi disastri sono solo le doglie il parto vero e proprio verrà dopo e il parto è accomunato alla pace alla pace di cui il mondo ha bisogno e che la Madonna sta predicando in maniera molto forte tanto è vero che Papa Francesco anche dopo Giovanni Paolo II ad Assisi sta cercando di riunire tutte le religioni grazie alla sua mediazione di pace e nel conflitto ucraino-russo il Papa si è proposto come mediatore di pace ma riferendosi a che cosa? alla regina della pace alla Madonna apparsa a Fatima quindi la Madonna è l'agente primario di questo nuovo ordine mondiale altro che blocchi politici tra Oriente e Occidente ce lo dobbiamo scordare questo nuovo ordine mondiale o il Deep State come si usa dire oggi ce lo dobbiamo dimenticare ci saranno gli stessi attori politici ma questa volta guidati da una entità sovrannaturale la Madonna diciamo che è qualcosa di impossibile e allora vediamo dagli anni 50 fino ad oggi che cosa vuole la Madonna il 2 novembre 2005 a Chris Curtis un leggente mariano la Madonna dà questo messaggio desidero dirvi che prima che le mie apparizioni giungano definitivamente a termine io sarò vista da ogni denominazione e religione nel mondo ed è quello che sta succedendo nel loro libro Regina di Tutti Tatl Oakland e Mears dicono la popolarità delle apparizioni e dei suoi messaggi ha raggiunto proporzioni mastodontiche gli storici mariani affermano che per quanto le apparizioni di Maria siano state riportate lungo i secoli mai come ai nostri giorni la Madonna è apparsa con tale costanza e frequenza perché perché vuole fare da da ponte per le diverse religioni e diciamo anche per le diverse fazioni politiche nel 1997 Newsweek quindi un giornale non cattolico non mariano riportava in copertina proprio la figura di Maria e all'interno nell'articolo si diceva in molti modi il ventesimo secolo è appartenuto a Maria da quasi ogni continente feggenti hanno riportato più di 400 apparizioni della Vergine più che nei tre secoli precedenti messi insieme prese nella loro unità queste visioni mostrano ciò che il movimento mariano ritiene essere l'era di Maria del millennio cioè l'era della pace e infatti le apparizioni si sono avute in Giappone in Africa in Corea Australia Iraq Israele addirittura in Egitto in Siria nell'ex Unione Sovietica e in India e in qualche modo in questi giornali di riferimento anche laici si fa capire che mai era successa una cosa di questo genere tant'è vero che Thomas Petrisco nel suo libro Curl of the Ages chiamato per le nazioni dice milioni e milioni di persone di tutti i continenti del globo hanno visto udito e risposto alle apparizioni e ai messaggi della Vergine Maria e il reverendo Charles Dickinson luterano quindi protestante nella rivista Queen Magazine scrive persone da tutto il mondo stanno percorrendo enormi distanze per dimostrare di persona la loro venerazione alla madre del nostro Signore e se vogliamo in qualche modo qui stiamo entrando in ambito protestante dove si sta strizzando l'occhio a a Maria nel 2003 il Los Angeles Times faccio notare ancora un quotidiano non confessionale non cattolico il 12 dicembre nell'articolo intitolato Nostra Signora non solo per i cattolici con gli articolisti William Lobdell e Jennifer Mena parlando della Madonna di Guadalupe che è la Madonna apparsa a seguito delle invasioni dei conquistadores nell'America Latina azione che ha fatto diventare l'America Latina completamente cattolica almeno fino a poco tempo fa i due autori fanno notare che appunto essa è apparsa a Guadalupe e per tutti gli altri come conciliatrice con lei che concilia in qualche modo concilia tutte le religioni e ancora da Time Magazine il 21 marzo del 2005 si legge quanto segue David Van Diema scrive i cattolici l'hanno venerata per lungo tempo ma ora i protestanti stanno trovando le loro ragioni per celebrare la madre di Gesù e diceva ancora quest'autore in un cambiamento la cui portata ideologica è inusuale nel frammentato mondo protestante il muro eretto da un lungo tempo attorno a Maria sembra sgretolarsi Maria sta guadagnando popolarità nelle scuole teologiche protestanti dove le sue icone adornano le pareti dei futuri pastori e cita il caso di una chiesa metodista metodista dal south side di Chicago dove lì sull'altare troneggiano due statue della Madonna che appunto affiancano fiancheggiano sull'altare ecco noi stiamo assistendo a un fatto molto interessante cioè i protestanti stanno tornando oppure in qualche modo stanno approdando a Maria tutto questo lavoro è iniziato negli anni 50 Maria che vuole riconciliare nella pace il mondo e tutte le religioni tanto è vero che anche in casa nostra sono apparsi degli articoli per esempio quello di Luca Dini sulla rivista Oggi del primo ottobre 1997 dove è scritto tra gli anglicani e i luterani si sta addirittura diffondendo l'abitudine di recitare il rosario fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile ci sono anche anglicani e luterani infatti tra i pellegrini che accorrono ai luoghi delle apparizioni mariane sì veramente tutte le fedi si riuniscono sotto il manto di Maria la Bibbia dice che alla fine dei tempi ci saranno apparizioni segni miracolosi fatti appunto da in previsione del ritorno del Cristo per distrarre le persone da Cristo che è l'unico mediatore e dalla Bibbia che ci può aiutare a riconoscere il vero e il falso intervento di Dio bene io mi avvierei verso la conclusione così come ho iniziato citando Ellen White la quale dice nel Gran Conflitto pagina 624 625 alcuni si presenteranno pretenderanno di essere Cristo stesso reclamando il titolo e il culto dovuti al Redentore del mondo faranno miracoli straordinari opereranno guarigioni e pretenderanno di annunciare rivelazioni divine che sono però in contraddizione con la chiara testimonianza delle scritture Maria purtroppo in tutte queste apparizioni ha detto cose in aperto contrasto con le scritture se ne erano accorti i padri della chiesa antica non se ne sono accorti i padri della chiesa moderna e i miracoli non sono mai il segno o non solo un segno positivo non sempre infatti in Apocalisse 16 versetti 13 e 14 ha detto che vi di uscire tre spiriti immondi perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo qui viene evocato l'intento di Maria di parlare a tutti il mondo continua Apocalisse per radunarli per la battaglia del gran giorno di Dio Onnipotente e Gesù in Luca capitolo 21 versetto 11 dice vi saranno fenomeni spaventevoli e grandi segni nel cielo ma sempre operati dal demonio e quindi è possibile che il piano di cui parlava Cannizzaro nel suo libro sia veramente un piano satanico le famose dottrine di demoni di Apocalisse e anche di Paolo Apostolo i messaggi della Madonna potrebbero essere fuorvianti allontanarci dalla Bibbia e da Cristo Tetrod Oakland e Mears concludono dicendo nel libro Regina di tutti oltre al suo fascino materno le apparizioni aiutano attivano milioni di persone grazie ai numerosi segni prodigi e miracoli riportati una madre presente un potente intercessore una costruttrice di ponti e un'operatrice di miracoli è riuscita a riunire masse di individui che normalmente non si associerebbero sì Maria ha riunito i cattolici i protestanti gli evangelici e come vedremo nel prossimo incontro gli induisti i buddisti e gli islamici continuate a seguirci per saperne di più e sì è Maria che sta cercando di unificare il mondo nella pace la gente vuole la pace e sembra che questa apparizione la voglia operare la voglia dare ma vi ricordo la profezia di Paolo proprio quando diranno pace e sicurezza arriverà all'improvviso una rovina perché questa pace questa sicurezza non è quella di Cristo queste parole non sono quelle della Bibbia e quindi non possono portare molto lontano a risentirci e un caro augurio a tutti i fedeli di ogni religione cattolica protestante induista buddista islamica che però sono uomini e donne di buona volontà che cercano con sincerità Dio e Dio si lascerà trovare